allora il senso di questo video è spiegare al dottor ingroia come funziona questa trasmissione karaoke rock sulla bici che ne pensa dottor ingroia beh una bella idea on the road il rock ci sta bene in modo penso per avvicinare gli italiani a una buona musica sento ma lei va in bicicletta dottor ingroia raramente ogni tanto un po difficile andare blindati in bicicletta però magari testato qualche volta senta musica rock quella dei miei tempi dai rolly stones del zeppelin i dors sono i miei preferiti senta ce lo fa un saluto a radio rock che è una radio che la segui dottor ingroia bene saluti da oggi vi seguirò davvero la seguiremo molto seguo molto la musica mi piace anche il rock e allora buon ascolto e non buona visione non so andate anche sul no si si andiamo anche e buon web e buon web musical a tutti ciao ciao arrivederci ciao